Ah scusa shurpadru, saremp fatte il più le E rali premi volti, rali premi volti Ah scusa shurpadru, saremp fatte il più le E rali premi volti che hampsa jempu venga Al prossimo episodio E non va più a mesi, nemmeno a settimane, la va a poche ore, la va a poche ore. E non va più a mesi e nemmeno a settimane, la va a poche ore, poi dopo a Lumacca. E non va più a mesi e nemmeno a settimane, la va a poche ore, poi dopo a Lumacca. E non va più a mesi e nemmeno a settimane, la va a poche ore, poi dopo a Lumacca. Quando saremo a casa dai nostri fidanzati, ci daremo tanti baci, ci daremo tanti baci. Quando saremo a casa dai nostri fidanzati, ci daremo tanti baci, tanti baci in quantità. E non va più a mesi e nemmeno a settimane, la va a poche ore, poi dopo a Lumacca. E non va più a mesi e nemmeno a settimane, la va a poche ore, poi dopo a Lumacca. Grazie. 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 Grazie.